Ips Italia è il più grande distributore per quotidiani e riviste internazionali in Italia. Ips Italia è il partner ideale per qualsiasi editore che voglia raggiungere i suoi lettori, dalla stampa digitale del giornale alla consegna della copia al punto vendita. Ips Italia, oltre 60 anni di competenza per il tuo successo. Ips Italia è il partner ideale per qualsiasi editore che voglia raggiungere i suoi lettori. Ips Italia, oltre 60 anni di competenza per il tuo successo. Ips Italia, oltre 60 anni di competenza per il tuo successo. Ben trovati, ben trovati a tutti ad un punto un po' particolare. È l'ultimo punto del 2023, noi ci rivedremo nel 2024, ma non solo con me, con il punto e con Network. Ormai vi rivedrete anche nel 2024 anche con chi conduce le altre trasmissioni, ovvero la rassegna stampa della mattina che conduce Sonia Bertino, quindi la rivedrete nel prossimo anno. Ma anche con Stefano Pettinari e il suo newsroom. È per questo che abbiamo deciso di salutarvi raccontandovi un po' cosa è successo in questo 2023 che sta per chiudersi. E cosa potrebbe succedere nel 2024 che sta per iniziare? Non lo farò da sola, faremo questa sorta di puntata mix tra il punto e il newsroom. E' infatti qui con me Stefano Pettinari. Ciao Stefano. Ciao Agostina. Grazie a te, grazie a te. Per esserti prestata a questa puntata un po' giocosa. Questo è il tuo punto. Io sono emozionato anche in questo studio bellissimo con l'albero di Natale. Con l'albero di Natale. Di tanto ci vuole, abbiamo parlato di tradizioni davanti a questo albero, di concerti di beneficenza. Adesso ci chiediamo anche l'anno. Stefano poi è strano che lui fa trasmissioni sempre molto più serie che si è prestato a questa trasmissione. diciamo che vi vogliamo far conoscere anche chi lavora dietro le quinte, cioè chi poi produce Cino Online, chi produce, chi realizza insomma con i suoi articoli anche il quotidiano La Provincia. Che è una bellissima squadra che poi andremo a conoscere. Ma intanto Stefano, parlando del 2003 che a te non posso non chiederti. 2023. Il 2003 non mi ricorderei nulla. Non mi ricorderei nulla. Tu segui soprattutto poi la cronaca. Sì. Che anno è stato per la cronaca? Ci sono stati anche a mia memoria degli eventi un po' particolari? Sì, diciamo che è stato un anno forse meno, per fortuna con meno fatti di cronaca, insomma quelli proprio di cronaca nera rispetto ad anni passati e questo già effettivamente è sicuramente un aspetto positivo perché insomma non è mai bello scrivere di queste vicende. Però indubbiamente forse la protagonista maggiore di quest'anno per quel che riguarda i fatti di cronaca è stata a Santa Marinella perché sono successe molte cose a Santa Marinella, a cominciare dal fatto che per esempio c'è stata un'indagine dei carabinieri molto importante che riguardava tutto un giro di estorsioni che poi sono sfociati appunto in sei arresti se non ricordo male e che ha visto coinvolti diciamo per certi versi anche i carabinieri o meglio un carabiniere che a sua volta è stato indagato perché avrebbe favorito la fuga di uno di questi estorsori. Insomma una vicenda di cui si è parlato molto quest'anno e poi l'altra indagine molto importante quella relativa al tentativo di corruzione nei confronti di alcuni consiglieri comunali da parte di un noto imprenditore di Santa Marinella il tutto per cercare di far cadere Pietro Tidei sindaco di Santa Marinella e questo poi è sfociato in tutta un'altra vicenda ovvero perché per quella indagine la procura ovviamente aveva fatto piazzare le cosiddette attività tecniche ovvero intercettazioni sia audio che video e da una di queste intercettazioni o meglio più di una di queste intercettazioni video viene fuori quello che poi è stato ribattezzato dai giornali il Tidei Gate che appunto ha fatto scoprire queste situazioni diciamo un po' piccanti che succedevano all'interno del palazzo comunale di Santa Marinella e da lì insomma tutta la vicenda che credo insomma non sia neanche il caso di andare a ripercorrere perché credo che la conoscano. Veramente ne hanno parlato tutti i principali quotidiani insomma se ne ha parlato per tanto tempo. Tu parlavi di poca cronaca nera è vero però c'è stato un episodio questo me lo ricordo anche io poi tu l'hai seguito molto meglio di me che penso da mia memoria sia stato l'unico per fortuna incidente mortale all'interno del porto che è successo proprio all'inizio dell'anno se non ricordo mai. Sì e quello è stato un altro uno dei fatti di cronaca più più drammatici appunto questo incidente sul lavoro avvenuto appunto al porto di Civitavecchia dove Alberto Motta che aveva 29 anni praticamente è rimasto schiacciato da un container mentre lo stava trasportando. Ecco anche quello ovviamente è uno dei fatti di cronaca che ha colpito molto. Ce ne sono secondo me altri due di questo tipo di fatti che insomma hanno colpito molto la città. Uno è la morte di Viviana Serra, avvocato nonché nostra collega che appunto è stata un'altra di quei fatti che indubbiamente ha colpito moltissimo l'intera città e l'altro è quello più recente, l'incidente mortale dove è morto un ragazzo di 17 anni che appunto in un incidente con la sua moto ha perso la vita proprio poco prima delle festività natalizie. Quindi sono stati forse i tre fatti diciamo più eclatanti per quello che riguarda la cronaca nera. Io ne ricordo anche un altro che parliamo sempre di persone purtroppo morte, anche questa è avvenuta all'inizio dell'anno di Nicoletta Colisano la commercialista di Civitavecchia che viveva a Roma in una sparatoria. Io lo ricordo perché ai suoi funerali in cattedrale venne addirittura la premier Giorgio Meloni con la sorella Rianna perché erano molto amici. Lei rimase coinvolta in una sparatoria durante una riunione di condominio, se non ricordo male. Esattamente, c'era una riunione di condominio, questo personaggio arrivò che si lamentava già da parecchio tempo di situazioni che riguardavano appunto questo condominio dove lui viveva e a un certo punto ha pensato bene di starre un'arma e di sparare un po' a tutti a caso e uccise, se non ricordo male, quattro persone. Una di queste era appunto Nicoletta Colisano che viveva ormai da anni a Roma, però è Civitavecchiese, la conoscevano tutti. Aveva frequentato le scuole. Non l'avevo ricordato perché è un fatto successo a Roma, poi è chiaro. Sì, certo, io perché ricordo comunque al funerale conoscevo praticamente tutti, noi ci siamo andati per seguirlo, insomma per lavoro e conoscevo in effetti tutti tranne lei. Stefano, se non ti viene in mente altro di cronaca di questo anno? In realtà c'è una cosa che mi piace ricordare che è successa quest'anno ed è una, diciamo due cose, che riguarda più la cronaca giudiziaria, diciamo così, che non la cronaca nera. Uno è che c'è stata una sentenza molto importante per quello che riguarda appunto questa città, ovvero la sentenza sul decesso di Flavio Gagliardini, sulla morte di Flavio Gagliardini. Dopo tanti anni è arrivata appunto questa sentenza che ha condannato alcuni medici. E poi l'altro fatto che mi piace ricordare è che quest'anno per la prima volta nella sua storia è stata eletta una Presidente dell'Ordine degli Avvocati donna. L'Avvocato Domenici che non era mai accaduto prima, da quando esiste l'Ordine degli Avvocati, quest'anno è stata eletta una donna. Che curiosa questa cosa, nemmeno lo sapevo. E allora se Stefano abbiamo riassunto l'anno di cronaca, ci andiamo a fare una passeggiata? Andiamo in redazione? Andiamo in redazione. Andiamo. Allora Stefano andiamo a dare fastidio a chi sta lavorando, no come stiamo facendo io e te adesso. Stiamo divertendo. Ci dividiamo i compiti. Io parlo con chi fa cose che so anch'io, vada, e te ti lascio lo sport, va bene? Perfetto, perfetto. Allora, visto che devo parlare con chi fa il mio stesso settore, quello che conosco meglio, vado a disturbare Daria Geggi. Ciao Daria. Ciao, buonasera a tutti. Daria sta lavorando, questa è l'ora che il giornale sta verso la chiusura, quindi noi rompiamo veramente le scatole, si può dire questa cosa. Però è un saluto e un augurio di buon anno, era doveroso anche per chi lavora e non si vede quasi mai. Daria, che anno di porto è stato? Ma sicuramente è stato un anno particolarmente importante, importante perché sicuramente sarà ricordato come l'anno del record, il record delle crociere, numeri che questo porto neanche si aspettava. Partivamo comunque dall'azzeramento del settore dopo il covid e invece il porto chiuderà con oltre 3 milioni e 200 mila passeggeri, quindi numeri veramente importanti. Solo crociere ma anche tanti cantieri che apriranno? Tanti cantieri che apriranno, l'autorità portuale è riuscita comunque a ottemperare a tutte quelle che sono state le disposizioni dell'Europa per quanto riguarda i cantieri da aprire con i fondi del PNRR. E quindi ad anno nuovo, quindi nel 2024, si potranno aprire tutti i cantieri previsti. E quindi speriamo anche di sbloccare il Marina Yachting? Quella è l'auspicio insomma di tutti quanti, del porto, della città, del territorio tutto, perché sicuramente potrebbe garantire veramente una boccata d'ossigeno importante e potrebbe garantire una vocazione diversa anche per questo territorio. Grazie a Daria, la lasciamo alle sue cose e andiamo a vedere invece per quanto riguarda la sanità, insomma ci sono spesso conferenze dell'ASL e novità sulla sanità e qui c'è l'uomo che fa per noi ed è Francesco Baldini, l'uomo della sanità. Ti manca il camice però? Per quello serve un po' più di tempo. Senti Francesco, che anno è stato per l'ospedale di Civitavecchia e per la sanità in genere? Guarda caso, lo stavo anche scrivendo. Ah, stai scrivendo proprio un pezzo che leggeremo sul giornale di sanità, parliamo dell'ospedale? Sì, parliamo dell'ospedale, del territorio, perché anche per il comparto sanità è stato un anno importante, un anno in cui il PNRR fa un po' da padrone, forse in tutti i vari ambiti che seguiamo, non solo sulla sanità. Sulla sanità è importante perché andrà proprio a cambiare l'assetto delle cure sul territorio e le cure saranno più capillari, nasceranno le centrali operative, nasceranno le case di comunità e nasceranno gli ospedali di comunità che andranno a cambiare proprio l'assetto delle cure, appunto. Scusate la ripetizione, ma è stato un anno importantissimo anche per l'ospedale San Paolo, perché tanti cantieri sono stati aperti, diversi vanno verso la chiusura. Il primo che è già andato a chiudersi è stato quello del blocco operatorio, dove è stata realizzata anche una recovery room che servirà per snellire i tempi d'attesa dove il paziente potrà riprendersi in tranquillità e agevolare tutte le operazioni che si svolgono tra un intervento chirurgico e un altro. Oltre questo si va verso la conclusione dei lavori del reparto di ostetricia, lavori importanti perché fanno seguito a un percorso di potenziamento del punto nascita dell'Asla Roma 4, che quest'anno chiude con oltre 300 parti e un più 12%, che è un dato un po' in controtendenza. Quindi si torna a nascere tanto all'ospedale di Civilecchia e non è più a rischio di chiusura da tempo? Siamo ancora lontani dal dire che ce la siamo scampata, però sicuramente un più 12% è un dato importante, visto che comunque se non ricordo male lo scorso anno eravamo a 280 parti, l'anno precedente ancora meno, vuoi per il Covid, vuoi per altre cose e appunto superare i 300 parti, avere un dato positivo nel 2023, e nonostante i lavori in atto e le varie problematiche del caso, con un ospedale che comunque ha tanti cantieri all'interno, è un dato estremamente positivo. Quindi sarà un anno molto impegnativo per l'Asla nostra? Sì, un anno impegnativo, parecchio. E grazie anche a Francesco Baldini, lo lasciamo alle sue cose. Io mi sono perso a Stefano Vettinari che mi deve affiancare in questa maratona. Io sono qua, mi sono già seduto. Ci sei, ci sei, vai. Sono già seduto vicino a una delle colonne del giornalismo sportivo locale, ovvero Giovanni Pimpinelli. Ciao Giovanni. Buonasera, buonasera. Allora, che anno di sport è stato? Io non mi ricordo fatti particolarmente importanti, a parte l'ultimo europeo di pugilato di Marsili, che peraltro insomma non è andato neanche tanto bene. Sì, non è andato bene, purtroppo non è arrivata la vittoria, comunque si ha fatto una grande prestazione, ha dimostrato di essere sempre pronto a certi pacoscenici, tanti lo hanno incensato, è pugilato, è arrivata anche la doppia vittoria di Marco Magnesi che si è riscattato dopo la sconfitta dell'anno scorso in Inghilterra. Prima Valmontone contro Gimenez, ha conquistato il titolo silver mondiale da WBC e poi l'ha difeso a Roma nel match contro Tehran. Per quanto riguarda le altre cose, abbiamo anche il primo Civitechese che ha conquistato l'accesso all'Olimpiadi di Parigi, che ha tre uno stella nel windsurf, commissario tecnico della nazionale, grazie a quello che è stato ottenuto durante i mondiali, Luca Di Tommasse e Nicola Orrena, poi ne parleremo diffusamente anche sul Civolan e il Giorno della Provincia con quanto riguarda l'anno di sport. Possiamo dire che è arrivato al secondo posto per quanto riguarda la SG nel campionato nazionale di A1 di ginnastica artistica, e poi ha fatto bene anche a manino esposito con il doppio argento agli europei e poi anche la convocazione ai mondiali nella formazione. Speriamo che arrivi anche la convocazione per le Olimpiadi di Parigi, anche per lei proprio con la selezione azzurra. Ci direi che ha anche vinto un campionato nella pallonato femminile con la Nautilus che si è imposta nel campionato di Serie B, vincendo tutte le partite tranne una, quindi ha stato dominato questo campionato. Ci sono state anche delle notizie negative, soprattutto nel quanto riguarda le due retrocessioni, soprattutto quella della pallonato, la NC che retrocessa ancora in Serie B e la Civita Latte che invece è scesa dalla B2 alla C dopo aver fatto il percorso dalla B1 alla B2 lo scorso anno. Poi possiamo anche dire sicuramente che abbiamo visto situazioni positive, soprattutto nel basket per quanto riguarda il comprensorio, perché il Santa Maria della Basket ha vinto il campionato di Serie C femminile, è stato promosso in Serie B. La Rima Cervetri ha vinto la Serie C 2, è stata promossa nella Serie C unica e sta facendo anche molto bene in questo campionato, dove gioca anche la stama 90 cististica. Alla Dispoli, il basket della Dispoli è stato promosso in Serie D e ha disputato anche il derby contro la Dinamo alla Dispoli. Tolfa, prima in classifica, il campionato di promozione per quanto riguarda il calcio, a Lumiere si viene rimessa al centro il discorso anche per quanto riguarda il calcio locale, con le feste che ci sono state in estate, si sta comportando anche molto bene il campionato di prima categoria. e poi possiamo di Santa Maniella anche con il basket avvito il campionato, ci avete a Dispoli la stessa cosa. Possiamo anche dire, sono state anche dei Lutti nel corso dell'anno, tre Lutti in particolare, Marco Gorti nel windsurf, Enzo Di Cicco nel motorsport e Gianni Fedelli nella Palla Nuoto che ci hanno lasciato. E quindi, insomma, chiudiamo anche con un briciolo di amaro questo intervento. Non so se vorrei anche ricordare qualcosa. No, volevo dire che siamo praticamente a metà stagione, no, per quello che riguarda lo sport, perché si sa, parte a settembre, ottobre e poi si finisce, diciamo, alle porte dell'estate. Che dobbiamo aspettarci per questi primi sei mesi del 2024? Speriamo anche nel Cilio del Cagaccio che possa sempre lottare per i primi posti. In questo momento si sta ritirando su con quattro vittorie con Sigudie, quattro vittorie di fine in casa. Poi teniamo anche conto, in questi giorni, anche se non arrivano in casa, ci vediamo che è arrivato un attaccante dalla campagna. Quindi andrà, sicuramente, a rinforzare gli ormeggi per quanto riguarda l'undici di Mr. Scudieri. Per gli altri sport ci aspettiamo la cosa, mentre anche da parte del basket, con la Stama 90 che ha la volontà di lottare per i primi posti e quindi andare a giocarsi la pool promozione e poi anche i blow-off. Palla a volo, una Cicca a Valle Cani, che ha fatto molto bene l'anno scorso, conquistando i blow-off, in questo momento in seconda classifica e a gennaio avrà lo sconto diretto contro la Lazio. Il Rabin, Serie A, per conquistare la salvezza e poi sperare anche di lottare per i primi tre posti e condurranno la nuova Serie A1. Palla a nuoto, che è di partita con l'ANC, retrocessero quest'anno, già tre vittorie nelle prime tre partite, e quindi la volontà di lottare per i blow-off e quindi sperare di conquistare la promozione e il ritorno in Serie A2. E poi l'altro sport, abbiamo visto che a Cicca a V è andato bene, la Fuzza d'Academy sorprendentemente ha un paio di punti dai blow-off in Serie C1. E poi, come ho detto, sarà l'anno delle Olimpiadi. Marco De Lungo ha stravinto tutto quest'anno. Scudetto, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa Europea. Gli è mancato qualcosa con il settepello. Ci saranno proprio da partita del 4 gennaio gli europei qualificanti per le Olimpiadi, un posto per quanto riguarda le Olimpiadi, e poi se non dovesse arrivare i mondiali a febbraio, che invece vedremo a Doha, e lì invece quattro posti in paglio per poter conquistare l'accesso proprio alle Olimpiadi. Quindi vedremo una terna possibile con Marco De Lungo, con Manile Esposito e con Adreno Stella. Non ci sarà Lorenzo Ballarati, ha fatto molto bene durante l'anno il tritone della Cosa Raniene, però si dedicherà soprattutto all'aspetto Juniores, ha stravinto ai mondiali Juniores, agli europei Juniores, però servirà a lavorare in vista anche dell'Olimpiadi del 2028 per quanto gli riguarda, comunque si sta proseguendo nel suo percorso. Grazie Giovanni, buon lavoro. Grazie mille Stefano, buon lavoro anche a voi dalla cronaca. Allora, io mi sono persa Cristiana, eccola qua. Io passeggiavo per la redazione, allora noi dovremmo salutare, avremmo dovuto dire anche un anno di politica come si usa, però la persona che segue la politica per la provincia è in ferie, Fabio Marucci lo salutiamo, sarà un anno impegnativo anche per la politica Stefano, perché c'è l'elezione del sindaco a maggio, giugno, adesso non so. Grazie mille per il sindaco di Città-Vecchia, che quindi insomma tutto quello che è successo nel 2023 si era completamente dimenticato già a partire appunto dall'inizio del prossimo anno, perché da lì inizierà la campagna elettorale. E ci vedremo anche abbastanza spesso insomma con la campagna elettorale. Io ringrazio Stefano che si è prestato a questa doppia conduzione e insieme vi auguriamo un magnifico 2024. Grazie, buon anno a tutti. Grazie a tutti. Radio Stella Città Sempre in un'altra, mai interrotta. Trasmissioni, news, novità, musica, sport, curiosità. Radio Stella Città Ogni giorno più colore, energia. Radio Stella Città La colonna sonora della tua giornata. Numero 1 I web in FM Radio Stella Città La colonna sonora della tua giornata. La colonna sonora della tua giornata. Grazie a tutti